Voglio presentare il professor Bombaccio, perché è una persona che ha virgolato e perché è un amico, con due motivi molto importanti. È nato in Sicilia ed è celebrato in biologia a Catania, ormai lontano, nel 1955, perché dal 1956 poi lui è stato in Francia, si è specializzato in pesca, dalla biologia è passata alla sottosezione della pesca e da lì non si è più, dal mare non si è più condannata. Però la cosa più importante, credo che si possa dire che ha fatto, è stato Veneto d'Ancona, fondare, costituire, poi dirigere l'attuale ISMAR, che è l'Istituto di Ricerca e Manile del CNR, lui è stato anche presidente di tutta la rete di ISMAR italiana per un certo periodo, ha conosciuto, frequentato e ha rapporto di amicizia con i più grandi nomi della biologia marina del mondo, possiamo dire. Europei, diciamo. Europei, sicuro, io ho visto anche le fotografie di queste riunioni conviviali e sintetiche. Ed è una persona che ha speso tutta la vita e continua a fare ricerca, continua, si può dire. È un vizio. È un vizio, è un vizio. È un vizio, è un vizio. Come spesso erano gli scienziati di una generazione precedente. Quindi lui fa citazioni latine, cita autori, poeti italiani a memoria, insomma, è eclettico. Però la sua vera grande passione è questa, la biologia marina, e credo che altre cose, oltre al fatto che il Cavaliere al Mettro della Repubblica, insegnato dal Presidente Bertini, ha insegnato per molti anni alla Facoltà di Biologia dell'Università Politecnica delle Marche, è membro della Caleia Martigiana, questo non ci conviene dirlo, visto che lo so anch'io. E quindi questa sera sarà qui a raccontarci del tonno per l'animale, come meraviglia del mare, ma anche come problematicità e anche come storia delle tecniche della pesca dall'attività fino ad oggi, soprattutto alle tonnare, perché lui non si è accontentato di studiare le tonnare, che lui si è andato sulle tonnare, ed è amico personale anche degli ultimi raissi in capi tonnare, sia della Sicilia che della Sant'Origlia. Non ho altro da aggiungere, atteni il microfono, bellissimo. Grazie. Grazie Gianfranco. L'animale di cui parleremo stasera è, diciamo, legato fortemente alla storia dell'umanità. Questo animale ha costituito l'interesse delle grandi civiltà antiche del Mediterraneo. Ma diciamo prima qualcosa su questo animale. No, ma questa non c'è vita. Marcio io? No, non faccio l'altro. Ecco, questo pesce ha delle caratteristiche particolari. Anzitutto, diciamo che tra i pesci è come se fosse un animale a sangue caldo. La sua temperatura interna è 8-10 gradi, superiore a quella esterna. e ha una particolarità che il suo muoto avviene in due tempi la sua propulsione muovendo il troncone caudale e la cona e dopo andando per moto inerziale. Quindi sbatte la cona e si muove batte la cona e si muove Tant'è vero che il suo nome deriva da una parola greca che è il verbo tunen tunen significa slanciarsi muoversi con impeto una caratteristica di questo animale che si presenta ogni anno regolarmente in grandi schiere mandre addirittura di togmi nel periodo della riproduzione entra in Mediterraneo da dove viene? Viene dall'Atlantico perché il suo abito la sua area di distribuzione è ampissima ed è il Mediterraneo l'Atlantico e anche i bacini che sono in contatto legati al Mediterraneo quindi per esempio il Mar Nero e anche il Mar Nato che gli antichi chiamavano la Palude Meotide mentre il Mar Nero per gli antichi autori era il Ponto si chiamava il Ponto Ponto e Osino per aumentare la sua idrodinamicità queste pinne la pinna vettorale la pinna dorsale lui riesce a piegarle e anche la prima pinna dorsale riesce a piegarle e a settarle in un incavo dello stesso animale proprio per non opporre resistenza al moto questo animale può raggiungere dei pesi e delle età straordinarie e i tempi in cui non era cacciato come ora si sono catturati degli individui di tonno che arrivavano fino a 600 kg e addirittura nella letteratura scientifica c'è il caso di un tonno di 1000 kg andiamo avanti questo è un altro tonno importante è il tonno a pinne gialle attenzione a non confondere queste pinne gialle sono queste da non confondere queste pinne con queste qua che invece si chiamano pinnule sono quelle piccole e quelle sono quasi sempre gialle anche nell'altro tonno nel tonno mediterraneo atlanto mediterraneo ecco questo tonno qua è quello del sud di diversi oceani l'oceano atlantico pacifico e indiano è quello che ci danno e ci spacciano per tonno per tonno vero per tonno rosso che è il primo anche questo animale è un tunnile della famiglia dei tunnili molto importanti nell'economia ma ritorniamo al nostro tonno queste che vedete qua sono delle pitture rupestri che vengono dalla grotta del Genovese nell'isola di Levanzo vedete che c'è il tonno rappresentato e magnificato queste pitture rupestri che risalgono al periodo del rame il cupreontico che è un periodo dell'età del bronzo quindi qualche cosa come 3500 prima della nascita di Cristo 3500 anni e questo animale viene effigliato o per gratitudine o per riconoscenza o per ringraziamento e se noi questo è un ingrandimento lotta del Genovese pittura rupestri e andiamo alla prima grande civiltà mediterranea di grande valore ai felici i felici stavano qua nell'attuale Libano questo popolo straordinario che seppe trasformarsi da popolo pastore e agricoltore abitava in quella zona che viene chiamata mezzaluna fertile questa mezzaluna fertile è diciamo quella parte di terra che sta tra il Mar Rosso e il mare aramico quindi corrisponde parte diciamo dell'attuale Israele dell'attuale Siria Iraq eccetera uno di quei cataclismi che anche nell'antichità comportavano disastri sociali ed economici enormi questo popolo migrò e migrò e si stabilì qua in questa zona nel giro di un secolo siamo all'incirca al ventitresimo secolo avanti di vista sempre trasformarsi da agricoltori e pastori in un popolo di naviganti straordinari ma anche di costruttori navali pensate che certo erano agevolati perché alle spalle di questo paese di questa stregita striscia ci sono i cedri grandi alberi grandi alberi per legname prezioso per le costruzioni navali inventarono per esempio il sistema di incastro per costruire le loro navi un reperto importante di queste costruzioni lo trovate a Marsala in Sicilia perché era una colonia fenicia lo stadione di Marsala l'isola di San Pantaleo e li trovate diciamo nel museo locale di Marsala una nave fenicia era una nave oneraria cioè di trasporto ma questi straordinari fenici lavoravano anche sugli animali per esempio la portola la porpora di Tino era importantissima ne fece un uso industriale per quei tempi cioè si può dire che tutte le stoffe tinte di porpora venivano fatte a Tino che è una diciamo delle città-stato del Libano che sono qua lavoravano anche i metalli una cosa straordinaria inventarono anche una scrittura cuneiforme nel solco della scrittura cuneiforme babilonese quindi un po' di grande genio e coraggioso osavano e che cosa fecero? fecero nei confronti del nostro ottono una cosa straordinaria non si veritarono soltanto di pescare i singoli individui come per millenni la vera si ingegnavano a catturare i branchi come? con delle reti combinate combinavano delle reti che erano al tempo sbarramento e circunzione e esplorarono e fondarono un sacco di colonie straordinarie cioè l'importante era Cartagine Morsia questa qua e anche quelle fuori dallo stretto di Cipilterra Cadice insomma colonizzarono tutto quello che era colonizzabile per il tempo ma se uno va a vedere queste colonie felice si accorge che c'entra sempre il tonno il tonno che essendo in grande abbondanza grande quantità di animali che ogni anno entravano per la riproduzione loro suggerivano di conservarlo perché nella storia dell'umanità quando c'è una materia prima importante si apre il discorso di una conservazione di un indotto industriale su questa materia importante la salagione e lì si innescò un altro grande sviluppo industriale che era l'industria di conservazione e di costruzione per esempio dei barili i barili in legno allora si salava quindi i barili in legno cose fino a oggi poco tempo fa si facevano con loro ma non crediate che questa salagione fosse la cosa grossolana e loro usavano diversi tipi di salato di preparare salagione i greci continuano su questo sorco dei felici i romani consumavano e stavano a guardare le legioni romane erano biottissime dei prodotti salati fenici e le compravano a cartagine cartagine che era diventata un emporio straordinario ricordate il famoso aneddoto di Catone che arriva al senato romano e porta i figli di cartagine e di cosa cresce là ma c'era anche il salato che le legioni romane ambivano e lo compravano anche perché c'era un problema di sale molto molto importante queste sono delle monete felici che è una figura di un uomo e che sono state ritrovate a Cala Sabona in Sardegna perché un'altra importante colombia stava in Sardegna Tauros per esempio di portange colombia queste monete ispano-aramiche della costa meridionale della Tauri sempre con immagine di tono perché questa glorificazione del tono perché diede un input economico di sviluppo economico straordinario a queste comprensioni perché pensate che queste caroline che ogni anno arrivavano nel mediterraneo per la riproduzione erano fatte da migliaia di migliaia ecco era talmente abbondante la risorsa che anche un no voglio torniamo a dire questo qua è un cratere il venditore di tono è un cratere che viene dalla necropole di liberi e degli scavi che furono fatti da quegli insigne e corso aristocratico che era il barone Enrico Piraino di Mandralesca il museo che ci ha lasciato è quello di Cefalù che è quella cittadina che sta tra Tempini Merese e Mimazzo cosa rappresenta rappresenta un pitocco un poveraccio che però ha la possibilità di comprarsi il suo trancio di tono tanta è l'abbondanza l'abbondanza dell'animale straordinaria e anche un povero diavolo riesce a comprarsi il suo trancio di tono e ci sono anche le le pezze già la di il suo trancio ma ce ne ha anche molto cosa vuole dire questo vaso vuole dire che c'era abbondanza di risorse e che questa abbondanza era in grado di soddisfare anche le classi nella pandemia ecco questa è una citazione che viene da un grande storico Ferdinand Brodell Brodell è lo storico dell'Ecole des Annales degli Annales è un modo diverso di fare la storia è un storico che apre un nuovo orizzonte nel descrivere e fare la storia umana cosa dice questa grande scuola di storicismo di storiografico dice questo che i grandi avvenimenti storici hanno un'impubazione nei piccoli avvenimenti quindi bisogna capire i piccoli avvenimenti per capire com'è che poi si sfoce nei grandi avvenimenti nei grandi personaggi ma c'è prima tutta un'incubazione lo storico ha il dovere di scopare questi germi queste incubazioni da cui viene a voi i grandi avvenimenti questa scuola francese poi darà diciamo spazio ai grandi medievisti getti le cose per esempio le ponte le protezioni la casa cosa dice la sola pesca che merita di essere detta abbondante merita anche quella del tono per quanto breve sono tre o quattro settimane all'anno e poi si intresa la funezione e oggi tendono sempre a ricosti la storia allude al fatto che anche le zone cereali di rivoluzione possono cambiare per questo rinquinamento di disturbo antropico cosa che vedremo qua ecco quelle che vedete qua sono le aree che c'erano all'esterno delle tonnare dove si lavora quel tonno e dove si mettevano anche gli scarti di tonno assieme ad altri pesci per la fermentazione da cui si ricavava anche il famoso garum romano garon dei greci cos'era storia di garum di storia era diciamo il liquido che si originava dalla fermentazione di questi scarti che però veniva filtrato qualcosa di simile a quella che erano studi la colatura la colatura di le acciughe calabria cetara cetara e cetara è importante anche come termine perché cetara viene da ketos che oggi è il termine che adoperiamo per i mammiferi marini i cetacei grande animale per i tonni invece adoperiamo altri termini cosa succedeva? che questo materiale veniva filtrato una prima volta e si ottenevano in sostanza da diverse filtrazioni due liquidi il flos che era il fiore quello più intradissimo e il liquamen che era invece quello più denso si usava come condimento quindi condimento con un condimento copane queste strutture sono quelle che i greci poi chiameranno taricheiai perché in greco tarichon è il tonno ucciso quindi se una persona si chiama tarichone è un tonno e c'è il cognome tarichone le taricheiai erano appunto queste strutture di lavorazione in seguito tutte queste strutture per la lavorazione del tonno si faranno all'interno dei locali delle tonnare e questo è un magazzino questo appartiene queste strutture alla vecchia tonnare di Capo San Vito è questa questi sono i locali della vecchia tonnare di Capo San Vito in Sicilia che ecco qua invece siamo davanti a un esempio di piccola pesca con redi combinate quali sono sti redi combinate? ecco c'è per esempio questa qua è una rete di sbarramento qua c'è una palla di pastura la pastura da cui cadono del materiale organico che attrae i pesci poi c'è una specie di gianchio una piccola retina per circunisce per prendere questi pesci questo greco che vedete qua sotto è un greco arcaico non sono più uscito malgrado gli sforzi e anche di altri registri quindi capire che cosa significa e anche in l'articolo da scrivere questa figura l'autrice che è un archeologo Cassava che succede non riesce a decifrare questo greco però io ci vedo qua una cosa di cui che succede? ecco come potete vedere prossimamente su questo schermo cremo qualcosa no no si vede che è qualcosa di più adesso posso portare il tasto di un'articolo adesso ma tra un attimo ritornare però poi raccontare in sostanza questa è una famigliola questa è l'arca aiuto no questo non mi ha partito è molto 300 e questa famigliola è formata da una donna un uomo pescatore e da un ragazzo che si dice come sia il vado avanti io dalla prima è qui prego come vedete qua questa donna è discipula e questo mi ha fatto pensare a una tradizione che c'era nelle tornare siciliane la tradizione era questa che non ho assistito personalmente a queste cose che non poteva iniziare la campagna di pesca le tornare dovevano essere pronte per il primo di maggio quindi cavavano all'aprile perché il primo di maggio doveva essere in pesca la tornare doveva essere in pesca però la tradizione voleva che prima una vergine facesse la pebbina la tornare perché era apotropaico cioè questo favoriva la pesca e questa signora io non credo che vada a gabinetto se ha bisogno che c'era la faccia lì comunque che è successo è successo che in tempi venendo più vicini a noi era sempre più difficile fino a quando il Reis aveva delle figlie femmine e lui insiste era un'autorità e non si discute e questo rituale avveniva regolarmente comunque ci fu un tempo e non ci giocò più che si sottoponesse a questo rituale logicamente anche tra gli pescatori cominciavano ad essere i donnaroti si chiamano così i donnaroti cominciavano ad essere su un po' di scetticini che posso stare accendere quindi diciamo dalla serietà e dall'alchimia misterica del rito finì poi diciamo a svinciarsi in bari eccetera comunque finalmente il rituale si abolì e la pesca subì alcuni alti e bassi per cui ci fu che gridò lo vedi per non aver fatto perché in pescatori sono superstiziosi molto superstiziosi comunque dicevo questo greco archaico finora non ho trovato una persona che non lo decitasse andiamo avanti ecco queste sono delle citazioni che vengono dalla letteratura una persona come Aristotele la conosce da tutti per fama Aristotele si può considerare veramente il primo zogo del mondo occidentale uno studioso diventato grandissimo cultura sterminata per quel tempo pensate che Aristotele fu il primo a dividere a suddividere gli animali in due grandi settori zoto punta e otto punta cosa vuol dire gli animali che partoriscono animali zoto punta e gli animali che partoriscono uova otto punta e cioè avete tutta la divisione dei vertebrati i mammiferi tutti gli altri partoriscono per mezzo dei uova uccelli di rette l'anfile e pesce i mammiferi sono zoto punta quindi diciamo per quei tempi un'anticipazione sta valutando e che cosa è questa citazione animali in storia e la traduzione delle opere di Aristotele il ladino che per fortuna fu fatta se no non ci sarebbe rimasto quasi niente dell'opera aristotelica cosa dice i toni stretti una grande rete dalle barche che si accostavano se ancora vivi venivano uccise a colpi di fiochina o di bastone e tratti sulle marrazioni o trascinata viva nello stadio di vento con una orazione per tutto questo bisogna pensare a qualcosa come una grande rete anticoscianica cioè una grande rete che riesce a circuire una moltitudine di animali e con pezzi di rete di rottani vengono con quelli che fossero toni a una retata e l'acqua vespera invece riguarda i persiani di Eschero il grande tragico che riguarda la passaglia di Salamina che uccidevano come toni questo lo voglio dire andiamo avanti e qua invece siamo secondo secolo dopo Cristo o piano aleutica aleutica significa cose di pesca e questa parola greca è formata da due parti as alos in greco significa sale ma per traslato significa anche mare uteros significa utilizzatore del mare quindi qualcosa che guarda i pescatori per esempio ecco cosa dì questo questo brano di O piano secondo secolo dopo Cristo si mi spiega a livello dell'acqua a una rete la cui disposizione sorglie a quella di una città si vedono dei vestiboli delle porte e come delle stanze e delle strade i torni arrivano infine serrati come falangi di un popolo che mira ve ne sono di giovani di vecchi e altri che sono tra queste due età essi invece un nuovo infinito all'interno deve vedere che questo flusso non c'esse quando non c'è più posto mi ricorda sia che è una pesca eccellente veramente meraviglia ecco qua siamo alla descrizione di una tornara vera e propria perché la tornara è questa come vedremo ecco questa è la tornara tradizionale antica della costa di che cosa è fatta una tornara principalmente è formata la tornara di un certo parte una rete di sbarramento quando dovete pensare che ci sia la costa e poi è un sistema di camere qua il vestibolo di entrata per la tornare queste sono le camere che vengono chiamate di levante ma a destra del vestibolo e le camere di ponente l'ultima delle camere di ponente è la camera della morte cioè la camera dove vengono mattanzati uccisi poi c'è una terza struttura che il codaglio questo qua che è una specie di braccio che tiene sotto controllo i tonni che si avvicinano ma la cosa da osservare è questa vedete che i tonni immaginate la costa settentrionale della Sicilia quindi questo è il reno i tonni vengono da ovest verso l'est una volta entrate per esempio nel golfo ammettiamo il golfo di Castellammare che vi farò vedere poi fanno questa controcorrente questo giro e entrano nel vestibolo non è detto che tutti vanno verso la camera della morte sono quelli che vanno a destra allora poi piano piano con accorgimenti vari bisogna portare i tonni da queste camere verso le camere che arrivano poi alla camera della morte ma com'è questa camera della morte perché vanno tutti quanti lì? perché intanto a destra o a sinistra non hanno dove andare una volta che vanno qua che sono sotto il braccio del codardo questi animali sono portati diciamo sbattono nella parete di sbattamento e sono portati a entrare da qualche parte o vanno a destra o vanno a sinistra se vanno a destra allora piano piano bisogna riportarli a sinistra per portarli verso la camera della morte perché tutte queste camere? perché l'arrivo dei torni era imponente in altri periodi era migliaia di individui allora bisognava frazionarli nelle diverse camere in modo che la mattanza non avvenisse tutta in una volta ma si avvenisse in diverse tornate anche per non ingolfare il lavoro a terra perché a terra poi c'erano gli squartatori c'erano quelli che dovevano togliere le gonadi soprattutto le uova per fare le bottate e metterle sotto sale perché la tornata prevedeva e prevede degli specialisti dei donnarotti specialisti quindi poi non vi dico che cosa sono per esempio quelli che con delle marche che si chiamano mociare ora vi farò vedere una pepa che stavano sul limitale delle camere ma quelli erano degli specialisti della sensibilità questi pescatori avevano delle lenze dei fili di nylon con il piombo e passato dall'indice quando quando il tono entrava urtava questa lenza loro avevano la sensibilità di sentire che era entrata un tonno due tonni cioè tonno e allora quelli di la guardia che stavano la guardia delle camere con delle banche le mociare si chiamano comunicavano all'altro te ne mando cinque te ne mando dieci cioè erano in grado tale la sensibilità professionale di poter perfino contare questi questi anni ma vediamo un po' a tempi più visi anni che succede? come fa la tonnale schematicamente queste sono diciamo questo che vedete qua si chiama naso di volta si chiama anche campile ce ne è anche qua un altro sempre fare in modo diciamo che il tonno possa essere rinviato alla bocca in tempi più recenti si è adottata per esempio la bocca a massa in modo che il tonno potesse entrare ma non poteva uscire e in altri tempi dal vestivo c'erano dei tonni che potevano andare a uscire qua vedete la scalina la destra di ponente la destra di levante qua e qua c'erano dei grandi batteri che erano poi diciamo delle grandi parche dove venivano messi i tonni mattazzati i tonni uccisi queste sono diciamo le ditascalie delle diverse i nomi delle diverse camere logicamente un armamentario di questo genere ha un posto enorme che questo è il più grosso attrezzo che abbia inventato l'uomo per la cantura dei tonni e fin quando c'era la pesca e le grandi catture tutto veniva accortizzato ma quando cominciava la cattura quasi un po' maleatoria e probabilistica i costi pesavano come si pesavano allora si cerca di semplificarli in qualche modo la tonnara e questo per dimostrarvi l'armamentario l'armamentario era enorme perché queste reti devono stare dritte stare dritte significa che sopra ci sono dei galleggiani e sotto ci sono delle zavore ma da ciascun lato ci sono delle ancore e tutto l'ancoraggio della tonnara certo delle tonnare in mezzo come quella del ritorno che poi vedremo la tonnara di Capogranicola e quelle che avevano ancore di 500 kg 700 kg con 4 barre cioè ancore enormi per tenere ferma la struttura andiamo avanti faccio io faccio io ecco poi vedete le camere e le cosiddette porte abbiamo letto che c'erano le porte cosa sono le porte le porte in sostanza sono delle reti che con delle pretelle venivano alzate o abbassate a secondo dei momenti se per esempio c'erano parecchi tonni allora l'interesse del rice era quello di frazionare la cattura entrata in modo che diciamo si potessero mattanzare questi animali diciamo intornare successivi questa per esempio è una camera con la porta alzata c'erano delle pretelle che vedete qua è come un telone di teatro in sostanza e anticamente la donnara era fatta per esempio come comezzamorra questa è quella che si chiama la lima dei piombi non erano piombi erano delle pietre delle pietre squadrate tetraedriche grossolanamente squadrate che venivano imbrigliate con questo cavetto di fibra e legate alla lima dei piombi la rete era formata di fibra naturale cos'era per esempio questa fibra in siciliano si chiama bisa è una palmetta nana che cresce nelle montagne del Trapanese e l'ampelodesma tenax d'inverno le donne dei tonneroti cardavano queste palmette e le intrecciavano a formare queste reti non c'era bisogno di fare delle reti forti perché il tonno era umbroso basta vedere una e di una salvo che non sia inseguito che non sia inseguito basta lo squaletto di 20 centimetri e lui può fare impazzire allora a quel punto non resiste niente perché a quel punto travolgo ma generalmente il tonno cammina tranquillo e si intruppa dentro la tornata andiamo avanti ecco questa è la tornata semplificata per cercare di tenere il corso quindi poche camere anche perché si erano ridotte le greggi le mandrie di tonno c'è sempre la camera della morte e il il codardo che può avere anche due bracci volevo dire anche un'altra cosa sta camera della morte è una prisione la camera della morte è costituita da una rete che è questa che quando non ci sono tonne nella tonne non sta adagiata sul fondo sul fondo di questa camera quando entrano i tonne e bisogna quindi cominciare a battanzarli il rice si mette con un piccolo pacco qua dentro e ordina la chiusura di questa camera e che dice levate levate devono levare questa grande pesantissima rete che è la culica si chiama culica e che è formata era formata da una fibra forte diciamo spargo sisa un cocco cioè una fibra molto forte perché a volte doveva sopportare il peso di centrinaia centrinaia di tonno andiamo avanti si ma il canto è il canto è il canto è il canto è il canto ecco poi lo facciamo questo è il corfo di Castella Mare il corfo di Castella Mare e questo è il capo San Vino che vedete qua e qua è l'altro capo il capo il capo il capo ecco quando nei periodi gloriosi gli anni 40 50 60 anni prima tra l'altro ci stavano 5 6 connare ce ne stava una qua la secciata questa è la connare di magazzinarsi la spiaggia è quella di Alcavo Marina perché Alcavo sta qua sotto poi ce la troviamo Scopello che è qua non c'era anche quella di Castella Mare poi c'era quella del secco e poi quella del Luzzo e poi Capo San Vino tutte queste tornate beneficiavano del torno in entrata questo animale che come vi dicevo nel periodo riproduttivo entra in Mediterraneo per riprodursi però una cosa è convenzionale questa è la corrente dell'Atlantica guardate che abbiamo scoperto dopo che questi animali si intruppavano nella corrente atlantica entrante ma nei tempi antichissimi non lo sapevano non sapevano cosa fosse una corrente era inconcepibile ai tempi di Aristotele per esempio pensare che ci fosse un fiume che scorre nell'acqua perché questa la poteva loro non potevano concepirla tanto se del genere ecco è necessario perché le tonnare gravitanti del corpo abbiano la loro parte di tonno che ci sia un vento di brezza ci sia per esempio un maestralotto ecco allora questa corrente si sposta e si sposta col suo carico di tonno a questo punto questi animali si giuovano in qualche modo sbarrata l'andata e finiscono dentro la tonnare questo fenomeno si chiama presso i tonnaroti si chiama l'ammaticata l'ammaticata significa l'ammucchiata l'ammucchiata di acque e di tonni se i tonni ci sono nella corrente atlantica ma perché questi animali questi animali in fase di riproduzione a tempi ambirebbero camminare dentro la corrente perché risparmia energia nel movimento cosa significa? perché la corrente ti aiuta a muoversi in qualche modo cosa che non succede invece nella fase trofica quando è finito il periodo genetico e allora c'è tutto un altro comportamento il comportamento del tonno in fase genetica è diciamo quello dell'andata si chiama così e le tonnare che accolgono questo tonno sono le tonnare di andata tutto questo postula poi le tonnare di ritorno quando questo tonno una volta riprodotto cerca di riguadagnare l'altro l'anno ma la cosa non è così semplice come ve la descrivo io e dopo vedremo perché un'altra cosa qui andiamo avanti vediamo se c'è questo è il momento dell'avvantanza come si progete le barche un barcone un palascarmo e qua c'è una mociara una barca più piccola devono formare la cosiddetta incastellatura il quadrilatero il rai se lo dovete immaginare qua in una barchetta piccola e allora ad un certo punto lui grilla levate levate allora si solleva questa questa grande pesantissima a mano per coordinare gli sforzi si aiutano con un motivo con un motivo che è la cialoma cosa sta cialoma è un campo profiziato se andate a esaminare le parole trovate che questo è un documento di etnografia straordinaria perché comincia così aimola aimola gesù cristo e tutti i santi andiamo avanti aimola aimola e questo serve per coordinare gli sforzi adesso aimola che vuol dire che beh aimola è la cosa sicilianizzata di ai imabla che in arabo significa oh mio signore ai imabla oh mio signore perché perché c'è stato un periodo che la tonnara era araba cioè questi documenti attraverso le parole di riusciano anche la storia di questo antichissimo attrezzo una volta mattanciato il tonno immediatamente con questi prima di poi individuare io ecco con questo grande battello questi battelli non hanno motore vengono trainati da un motore da un piccolo rimacchiatore ecco questi battelli piedi di tonno vengono portati al magazzino ai magazzini della tonnara dove vengono squattati i tonni e vengono fatti a pezzi la squattatura è un'operazione di grande professionalità perché tutto questo deve avvenire con una rapidità straordinaria quindi c'è il colpo ventrale il colpo verticale l'estrazione dei filetti insomma una cosa che deve essere fatta nel più breve tempo possibile e poi va a ripetere voi anche immaginate in questa maraonda frenetica noi disilaziati ricercatori che cercavamo in qualche modo di misurare questi animali che a noi interessavano le taglie le taglie quindi in due uno cercava di misurare il tonno ancora quando era integro quando era già ammazzato quando era già squattato e dal muso fino alla furca caudale che è diciamo il punto più interno della cuore e che poi dalla taglia si può risalire anche al peso eccetera andiamo avanti ecco questa è una lapide nella tonnara di famigliana al 1859 ultimo anno ultimo della gamella Florio ora ci sapete la buona storia di questa grande famiglia dei Florio possessori di morte penute palazzi allora abitavano a Villa Igea era il loro la loro casa di famiglia ecco nel 1859 pescò 10.159 le tonne amministrava Antonio Rimavolo e un'ora se Antonio Casuolo ecco queste erano diciamo le entità di animali che riusciva a prendere la pancata e questo è il mio primo censimento delle tonnare parte nel 58 per vedere quante erano attive quanto invece erano estinte e quali erano le tonnarelle piccole ecco le tonnare non cavate sono quelle con il cerchietto muoto quelle cavate con il cerchietto pieno e capita subito che c'è una grande associazione di tonnare e questi siamo nel 1958 io allora muovevo i primi passi come ricercatore andiamo avanti ecco e qua è diciamo condensato in cifre il fenomeno che è accaduto nel 1400 c'erano 40 tonnare attive nel 1885 nel 1950 nel 2002 questo è il trapollo il trapollo feroce cioè cosa è successo? è successo che quando c'è una pesca intensiva per diversi decenni come è stato in Mediterraneo con le grandi di tornare volanti andiamo avanti vabbè questo è un altro discorso ritornando un po' ai felici si dice che i felici abitando nella città di Calice caricando per quattro giorni come il presente la gioventà d'avore per il fuori giugno in certi posti deserti pieni di alghe e di fuggi coperti nel flusso e scoperti nella alta e la samarea significa consapevole in un giorno la quantità sono 20 tonni di grossezza impedibile pescate di preparare un concerto e riporto i fatti che trasportano a cartagini non solo i cartaginesi nei secchi della scopertata ma non sono questi standard a loro contatto dei mirabili in cursano scultazioni significa delle cose mirabili che si sentono in giro che si ascoltano e che cosa ci dice questa scritta significa che queste navi fenici uscendo da Gibraltar sicuramente hanno incontrato i venti costanti gli alisei e gli alisei circoscrivono una grande area che è il Mar dei San Gras ecco quando si parla di alghe e di fuggi queste alghe e fuggi sono quelli che caratterizzano questa grande area andiamo avanti ecco il Mar dei San Gras quindi noi dobbiamo immaginare queste navi felici che escono dallo stretto di Gimilterra e che allora da un certo punto circoscrivono non è detto che una di queste navi non sia sbarcata anche qua è probabile comunque una cosa che si è constatata negli anni più vicini a noi diciamo gli anni in cui si c'è meno pollo c'è una grafia che i tonni che entrano o escono da Gimilterra quelli che escono si tengono nella parte meridionale dello stretto quelli che entrano nella parte settentrionale dello stretto questo è indicativo perché sono in connessione con l'indirizzo diciamo il senso degli alisei andiamo avanti arriviamo a questa cosa ci fu una credenza nel mondo antico il tonno venne chiamato porco marino perché si nutre di ghiande ma ghiande sono il frutto della quercia però se uno va a vedere le foglie dei funghi e dei sangiassi hanno qualche cosa che ricordano le foglie delle funghi ma passò invece un'altra ipotesi questa ipotesi la scrivò un grande biologo marino era un bregu che insegnava all'università di Sassari Francesco Cetti si chiamava lui disse questa cosa degli antichi che chiamano il tonno porco animale è dovuta al fatto che si nutrono di questa di questo di questo frutto che è il frutto della posidonia la posidonia e la posidonia perché diciamo sovinti avrà la vendita una gianna anche perché lui diceva Cetti c'è stato un anno che le coste del peniterraneo erano piene di questo materiale spiaggiare in effetti anch'io ho constatato che per alcuni anni le coste della Sicilia erano piene di questo materiale spiaggiare però questa pianta è importante ma diciamo questa è la riproduzione sessuale della pianta generalmente questa pianta si riconosce agamicamente cioè senza congiunione sessuale diciamo si riconosce attraverso gli stoloni sul fondo che germogliano e da questi ciuffi nascono le diversità sia come sia anche i donneroti siciliani chiamavano il tonno di mare ma perché di questo animale non c'è tutta niente in questo senso come il maiale andiamo a fare ecco qua siamo a un altro discorso per secoli si è discusso se la popolazione di tonno mediterraneo e atlantico sia la stessa popolazione oppure ci sono delle subunità di popolazione perché si è visto che per esempio il tonno delle coste americane è un tonno che raggiunge dimensioni notevoli grosso e anche l'età di prima rivoluzione è diversa poi c'è il tonno mediterraneo quello che generico che è eccetera eccetera e poi c'è il tonno mediatico che vedremo queste subpopolazioni sono diverse hanno dei contatti com'è la situazione? è una situazione numeroliatissima però noi abbiamo constatato che ci sono delle mescolanze cioè anche se si possono dividere in queste tre subunità di popolazione ci sono degli scambi cosa vedevamo? vedevamo nelle tonnale siciliane che certi tonni non è questo il caso presentavano qua nella parte del troncone caudale ventralmente come delle macchie rotonde ma che cos'erano queste macchie da che cos'erano? bene erano dati dai morsi di questo squaletto questa è la bocca di questo scavetto e questo squaletto che è diciamo una specie particolarissima è Isistius Brasiliensis del Brasile questo animale quando da dei morsi asporta dei mocconi di cani quelle che vedevamo noi nelle tonnale non sapevamo darci una risposta erano le impronte cicatriziali di questi morsi allora queste tonne avevano anche un'origine atlantica dell'atlantico occidentale cioè del bosone la situazione è proprio questa che ci sono tre subpopolazioni ma si cambiano degli elementi pure tutto questo non avete l'idea come complica la gestione la gestione di questo stock perché queste tre subpopolazioni hanno poi età di prima maturità sessuale e quindi la riproduzione è molto diversa allora e che si arriva al discorso che constatavano gli antichi gli antichi si accorgevano di un fatto l'inverno il tonno spariva cioè il tonno che entrava a mangio per riprodursi aveva il suo picco di riproduzione a giugno a luglio ancora c'era l'ultima riproduzione poi c'era in parte l'uscita da giubiltesa ma c'erano tutti i giovani tonni che erano apparsi dopo la riproduzione giovani e che man mano crescevano e anche questi di inverno sparivano gli antichi pensavano sia troppo un passo per portare una sincronica perché in profondità perché per parlare di un po' poi si è capito che questi animali cercano in profondità le vene più calde perché quando si vengono all'inverno vedi qua c'è la canuta di Arturo Arturo è una stella della costellazione di Bode che indica l'inverno che viene il tonno si nasconde nelle profondità marine laddove viene porto dalla cattiva stella solo qualche individuo isolato è possibile pescare torno l'inverno si nasconde le problematiche e vengono più grossi ora noi dobbiamo alla luce di quello che conosciamo interpretare anche il discorso dell'inverno gli atteggi sconoscevano le correglie però vedevano che per esempio sulle poste sante sulle poste siciliane i toni arrivavano da ogni verso e allora loro cercavano formulari delle ipotesi e allora dissero che i toni tenevano l'occhio destro verso la posta perché perché dall'occhio destro ci vede bene mentre da sinistro non ci vede bene bagatissimo ci vedono bene da un terzo gli occhi perché loro sconoscevano le corventi sconoscevano la corventa atlantica entrante che va da ovest verso l'estero poi si inventarono per esempio una una specie di misticio tra tonno e pesce spada i tonno entrano perché sono inseguiti dai pesce spada manco per me sono due specie che continuano benissimo poi si inventarono un parassita un parassita che si sollecitava a correre a ella non è vero niente venivano per riconosci però una cosa vedevano che l'inverno scompariva e allora cominciò a nascere e siamo già però nei secoli storici vicino a noi quindi siamo alla fine del settecento ottocento l'immontesi che ci sono nei tonni i cosiddetti golfitani che sarebbero i tonni che l'inverno si approfondero in un in primavera questa ritorna un'ipotesi sbagliata in realtà gli animali i tonni come vedremo ora ce ne sono popolazioni che soggiornano nel Mediterraneo per un anno e anche più e i grossi invece cercano di guadagnare l'attuandico attraverso Gimiterra quindi diciamo qualche cosa che ci può studiare un po' meglio come stanno queste circolazioni e i tonni eccetera e poi c'è non vero amore guarda che ci sono anche delle verità in queste cose qua perché le vene di acqua profonde sono le vene di acqua del Mediterraneo orientale la controcorrente che esce e quella è più calda della corrente superficiale e quindi c'è il tepore che puoi fare la riscoltura loro avevano l'intuizione ma non avevano il bagaglio di conoscenze che abbiamo avuto andiamo avanti e questi certi che vi dicevo prima storia naturale della sandella i tonni sopravvissuti dalla pesca escono da me in primavera cattolare ed è vero il tonno cattolare e parte tutte il carmino dell'altri e vanno finando le mani il rosso delle mani si viene invece contro l'Europa e allude a quelle correnti che diciamo in senso ciclonico cioè in senso contrario nell'ancetto dell'orologio ma che questa tonnale di capogranito è una tonnale di ritorno questa grande tonnale di ritorno che nei periodi migliori nella sua vita faceva 2000 tonni ma era una tonnale di ritorno che pescava soprattutto a luglio e ad agosto quindi il tonno era in parte ancora in fase generica ma in via diciamo di finire la ritorno guardate il pedale di questa tonnale una tonnale immensa e doveva raggiungere il pedale e qua siamo sui 65 70 metri quindi immaginate che armamentario di reti di marche di ancore doveva avere questa tonnale era una cosa immensa io la prima volta che ci sono andato sono rimasto stupefatto dal gigantismo di questa tonnale e questi tonni della costa sud della Sicilia questi vengono da est e vanno verso il sole ma sono in profondità non sono più in superficie come quelli genetici della costa regionale questi tonni cercano di guadagnare attraverso questa strada la strada precipitare quanti miglia era? il pedale e il pedale deve pensare che era 6 chilometri e mezzo quindi tra l'ottimità la metà professore ma perché passano sempre vicino alla costa? non potrebbero tutte è una scelta posso passare anche all'armo però la tonnana deve avere una tonnage a terra se la sua porta a via la tonnage ora facciamo un po' di oceanografia vediamo in riferimento questa che vedete per esempio è la soglia di Gibilterra questa soglia di Gibilterra è una specie d'imposa diciamo di escrescenza della roccia che dalla profondità sale fino a 280 300 metri questo è diciamo lo spazio che viene lasciato dalla cima della soglia fino alla superficie questa che vedete le frecce di qua questa è la corrente atlantica entrante che gli oceanografi denominano MAV vedete il terreno atlantic water cioè acqua atlantica modificata modificata atlantic water poi c'è la corrente uscente che vedete qua che lavisce la soglia ed è quella che gli oceanografi richiamano LEV LEV LEVANTINE INTERMEDIETER cioè l'acqua intermedia levantina come stanno le cose diciamo subito una cosa che chiarire sta facendo l'atlantico e il mediterraneo sono due vasi comunicati il mediterraneo orientale subisce un'evaporazione intensissima per via diciamo di situazioni geografiche e questa evaporazione fortissima fa evaporare dell'acqua e quindi per ripianare il delgio il bilancio idrico dell'acqua atlantica che viene richiamata in mediterraneo cosa succede? che questa atlantica questa atlantica che entra qua vedete per esempio la salività 36 per 1000 la temperatura è 35 mentre guardate quella che esce è 38% di salività e diciamo la la temperatura è piuttosto bassa però è un'acqua che si è riscaldata dell'acqua dell'acqua passiamo di queste fotografie se no non ci avremo andiamo avanti ecco fermiamoci questa è la circolazione superficiale delle acque dell'interno quando c'è che dice che c'è la corrente che va contro l'Europa è questa questa è l'acqua atlantica questa atlantica si divide il confine algero-tunesino una parte non avversò la Sardegna ed è quella che aumenta le tornare a Sardegna che sono poi gira ciclonicamente c'è tutto il reticolo delle Baleari le Baleari sono area di risoluzione e area di pastura di mangianza qua abbiamo poi la corrente quella che diciamo interessa le tornare di andata siciliana ma altre tornare stavano anche qua poi c'è una un ramo che finisce direttamente nel dettaglio orientale qua si è trovato in questi ultimi tempi per esempio un'area di riproduzione poi c'è la corrente una corrente che si articola e entra in Adriatico ma vediamo che assieme a questa corrente entra anche la corrente elementina questa è l'acqua superficiale avanti questi sono i vortici di mesoscala cioè delle correnti che si originano e che hanno durato di due o tre mesi ma ci sono anche i fronti che sono queste qua queste qua per esempio sarebbe troppo meno il discorso vediamo che sono correnti in cui ci sono ingioppati i tonni ecco avanti questa è la stessa andiamo avanti ecco questo è un modello schematico tridimensionale allora fate finta che sia diciamo nelle tre dimensioni che sia tutto il Mediterraneo questo schema l'acqua atlantica che entra arrivata nel Mediterraneo orientale si carica di sali perché è un'elaculazione enorme diviene più densa e si approfonda si approfonda e cerca di uscire una parte di questa corrente è quella la LING la levanta intermediativa perché arriva dove in aria andiamo avanti ecco qua siamo nel canale di Sicilia e trovate in azzurro è la corrente alla parte queste sono le correnti diciamo quelle calde che vengono dal Mediterraneo orientale che sono profonde questa zona da tutto si vista del fondale molto sorbettata molto parzola qua c'era la tornata di Capogranito ma è quella che abbiamo visto c'è da presumere che un ramo questi accidenti orografici spezzettano le correnti un ramo sicuramente andava qua e questo che andava ad alimentare la tornata di Capogranito andiamo avanti ecco accade in quegli anni che il sottoscritto questo è fatto ho fatto delle strascicate e facendo queste strascicate allora studiamo i molluschi carturai carturai dei gasferopoli che presenta carturai dei molluschi gasferopoli delle conchiglie in sostanza che presentano delle carene la carena è una specie di diciamo escrescenza della conchiglia spinosa andiamo avanti ecco queste sono le conchiglie che i molluschi su cui lavoravano in quel tema era buio questa è la stessa specie ma è la stessa specie che presenta queste variazioni della conchiglia a volte per esempio spinosa a volte invece delle carene non ce n'ha la forma carenata la forma accarenata perché io mi accorsi che la carena si formava in funzione della salinità le zone dove c'era una alta salinità si formava la carena questo individuo per esempio viene dalla zona di ciclo guardate che carena che c'ha perché lì la salinità è forte questo di meno ecco questo pure viene da ciclo carena spinuosa e invece nella zona dove indicai proprio qua trovavo individuo accarenati è vicino individuo il carenato questo significava che c'era dei pennelli d'acqua a salinità di resta quindi c'era lo spigolo per cento si questa è la carena non avevo capito queste sono le carene carene stimolose invece questo qua il giro è liscio non ha carene ecco qua dobbiamo fare un po' di oceanografia perché abbiamo capito che il tonno è connesso con questi movimenti in qualche modo non è che li segue perfettamente però almeno in certe fasi della sua vita quando si sposta per l'unice agente si fa aiutare perché spende meno energia perché la corrente in qualche modo questa è la villa la mantine intermedia cioè l'acqua intermedia questa è grossa questa qua parte da questa zona costeggia la crescita e finisce in avviario questa questa corrente porta dei tonni di agente questa è la corrente attolabica in azurro che arriva fino in beneternale orientale qua c'è l'isola di creta e anche qua c'è una corrente carica di sale che entra in area che porta i tonni come ripariamo questa matassa delle diverse popolazioni dei tonni ci siamo accolti per esempio c'è biologi che hanno studiato questo fenomeno soprattutto un grande biologo Massimo Sella che era il direttore dell'istituto di dominio d'istria che studiò i tonni tutta la sua vita e soprattutto cercò di studiare gli ami di cui alcuni tonni avevano afferrato diciamo perché gli ami come forma foggia e struttura hanno indicazioni del posto dove sono state fatte attraverso gli ami lui ricostruì delle maffe l'intagito dei tonni è straordinario dopo fece un lavoro perché quando Gesù una grossa discuta sull'origine e provenienza dei tonni lui con il suo lavoro certosino su grande volontà di ricerca gli dimostra alla grande scienza ufficiale che si era divisa in due sia italiani che francesi con diatribe ferocissime la popolazione è unica soltanto che ci sono delle sud popolazioni che dobbiamo capire la priorità noi si accorsi che i tonni adriatici erano piccoli e mezzani da dove vengono dove si riproducono non lo sappiamo però noi abbiamo visto che vengono da mezzanaglientare e questi tonni se vai poi a scavarci dentro hanno un'età di prima riproduzione abbastanza precoce sono tonni che costa 15 kg hanno già le gonadi mature quindi vuol dire che sono in grado di riprodurre a 15 kg mentre il tonno tirrenico si riproduce terzo quarto anno di vita ed è un po' più pesante il tonno atlantico quello delle coste americane invece 8-9 anni l'età di prima riproduzione e l'8-9 anni ha già 150 kg cioè è un tonno che si riproduce più tanto e che diventa diciamo sempre più più grande infatti in biologia si parla di gigantismo atlantico cioè gli animali che vivono in atlantico hanno prima età di riproduzione tutta arriva crescono ne più perché generalmente quando interviene la prima riproduzione in qualche modo si blocca alla crescita andiamo avanti e quando qua in atlantico a me è successa la stessa storia del canale di sicilia che trovai il tu sinus e postatus qua e qua strascicando il peccato beh qua c'erano le forme carinate qua una forma carinate quindi anche qua c'erano due pennelli d'acqua a salinità diversa ed è la realtà perché qua c'è diciamo l'acqua che sale che viene dal Mediterraneo orientale che abbiamo visto poco fa ed è quella tra l'altro che porta le specie vessepsiane cioè le specie che entrano al Marosco e che in qualche modo entrano in Mediterraneo alcune si sono un po' stabilizzate altre meno però è quella corrente che riporta i pesci papagallo i pesci papagallo diciamo i lagocefri che sono quei pesci i tetraudonti benissimo e che sono però le lenoze le lenoze che sono state vedendo ecco questa è un'altra struttura oceanografica molto interessante questa struttura oceanografica che è un grande giro un grande giro che generalmente agisce in modo ciclonico ma può agire in modo al contrario è una struttura che a feedback cerca di riciclare tutto il spire che viene trasportato da questa correnta la lida rossa che è quello che porta questi forni giovani dell'area orientale questa grande struttura sembra distribuire il sale di un biogianote ma dal punto di vista biologico distribuisce anche pesce e distribuisce organismi a tutta forza ecco vediamo un po' che succede va bene ecco questo è un'altra procedura allora ad un certo punto si è passati per capirci qualcosa di più alle marcature dei toni marcature significa che gli animali che vengono catturati anche con delle lenze gli apprezzivati vengono marcati le marche possono essere o diciamo degli spaghetti di plastica che vengono fissati sul dorso dell'animale ma ci possono essere anche le targature satellitari come in questo caso queste sono marche satellitari che vengono inserite tra la prima e la seconda borsal la prima e che stanno per esempio a registrare tutto il percorso dei toni dopo un anno questa parte di queste targhette si stacca però hanno registrato tutto per via satellitare noi possiamo ricavare tutto il tragitto che ha fatto l'animale e altri dati che riguardano la temperatura per esempio dico toni marcati qua e verso San Benedetto del fondo e in una zona che si chiama Baracca hanno fatto questo tragitto questo tragitto scendono giù qua c'è in grandeggiare che abbiamo visto e a questo punto si è visto che alcune donne prendevano la strada verso lì altre verso la Sinte e l'altra verso il Tirreno e rimontavano e finivano qua in questa grande area che è a nome delle Baleari perché lì è un'area di concentrazione tropica di cibo i toni che ci sono in Aria hanno una grande concentrazione che è la fossa di toni perché lì mangiano trovano da mangiare e i toni ritornano riconoscono i luoghi dove hanno trovato il cibo e cercano di ritornare come riconoscono i luoghi dove si sono ritrovati diciamo per la loro memoria due punti fermi in qualche modo riescono a ritrovare le aree di riproduzione però queste aree di riproduzione possono essere cambiate per motivi di inquinamento per disturbi antropici vari eccetera andiamo avanti questa invece è la volante per pesce azzurro ma che c'è già qua? qua c'è un discorso di nome non mi sono di confondere la volante con la tonnara volante la volante è quella per pesce azzurro andiamo avanti questa invece è la tonnara volante è una un'arma bicipiale enorme guardate le misure la lima dei galleggianti 1700 metri l'altezza 350 metri il battello particolare di 150 beh quando fu inventata questa pelle per 30 40 anni si usò senza regole e questa per me è una delle cause che provocò il collasso della risorsa quasi devo quasi perché le capacità di riprese di questi animali è straordinaria la fecondità di questi animali è straordinaria e quindi in qualche modo ora per sempre c'è un'impasto di riprese ma perché la pesca la gestione della risorsa è stata regolamentata regolamentata diciamo con delle norme precise essere occupato un organismo internazionale perché quando una risorsa come questa che naviga da un mare all'altro come niente fosse quindi capisce no tra l'altro l'inquaglio di questa di questa rete che era in contatto con gli aerei e gli aerei che segnalavano i banchi e quindi insomma il danno perché catturava toni giovanile che non si era riprodotto ma di lavoro o ancora quando insisti su una popolazione per diversi anni e togli via i giovani la popolazione è fatica ecco queste diciamo una di queste navi questo vedete il disastro delle catture di forme giovanili di tonno anche qua vedete questi sono giovani e queste le cause di impoverimento del tonno la morta luta da pesca strage di foglie immature per almeno 50 anni mezzi di cartura massiva eccetera caccia a tutte le le parti perché l'animale è prezioso i signori giapponosi che non ci fanno mangiare nemmeno un grillo del tonno nostro lo requisiscono tutto lo pagano a qualunque prezzo se lo portano per i loro piatti di crudo sashimi sushi eccetera lo pagano a qualunque prezzo quindi al consumo nostro noi mangiamo il tonno a pinne gialle quello che vi ho fatto vedere la seconda il tonno rosso o comunque salvo salvo che la pesca la pesca non ci dia diciamo qualche tonno di straforo come spesso succede non è che dobbiamo fare i santarellini ma non ci chiamano ecco assaggiamo anche loro guardate che nelle vecchie tegolamentazioni sul tonno si diceva che una liquida del pescato doveva prima soddisfare le popolazioni locali poi dopo potrebbe essere commercializzata sono poche le zone italiane dove questi precetti vengono osservati ok queste sono le cause le potete leggere voi stessi di deterioramento e queste sono le quote le quote dell'Incar l'Incar che è l'organismo internazionale per la conservazione dei tonni e qua per esempio vedete che le aliquote per il Mediterraneo sono aumentate 14 c'è 25 16 di 17 23 mila quindi questo significa che la risorsa è aumentata ma e queste invece sono la partizione della quota italiana come viene ripartita c'è diversi mestieri circunzioni palacolo maravissa esportiva c'è solo 0,47% la esportiva io scusa è un business grosso in teoria c'è solo 0,47% questo è quello che stabilisce il ministero ho capito ma io perché sono pescatore ci vado non le pare poco poco non è significante per quello che è il nostro impegno diciamo in termini di mezzi spese e compagnie belle passione 0,47% io non pensavo che sono così basso diciamo 10% non può dire che è tanto alta guarda è dire che è tanto no no non può mettere queste cose questo è il coefficiente di ripartizione quello che è mai dice questo 11 tonnellate 13-15 questo è diciamo il coefficiente di ripartizione cioè sul 100 0,47% quindi per esempio voi ci avete avuto nel 2015 11 tonnellate nel 2016 13 tonnellate nel 2017 15 tonnellate 15 tonnellate io dopo le 100 kg ho fatto la parte mia quando siamo 10-15 quando ho fatto è stato fortunato è stato fortunato è in quella settimana se non tempo di 60 mesi non è fisico sta a voi fare presenti queste cose ma sta a noi ma siamo vabbè professore noi cioè ogni categoria ora avete presente un po' esigenza ma anche tempo che rispettare le stazze noi siamo rispettare le stazze dobbiamo fare la dichiarazione della capitaneria dobbiamo fare la dichiarazione della del porto abbiamo comunque rispetto a quello che è una tonnara 5 volte tanto rispetto a una tonnara rispetto a una tonnara è tornare proprio niente sono solo quelle tre c'erano le cinquecenti di sicilia niente questo non è obbligatorio una domanda perché è con niente c'era che c'è solo queste due ze ma comunque qualche la città molesto proprio possiamo però fare le discussione dopo e far finire le persone perché poi le discussione le facciamo dopo comunque per concludere penso che non ce ne siano altre c'è qualche altra cosetta forse ecco queste sono fasi di lavorazione avanti ecco queste sono invece gli allevamenti in gabbie dovete pensare che oggi questi tonni che vengono pescati vengono trasferiti nelle gambe per l'ingrasso tutta la costa croata è piena di questi impianti di allevamento di ingrasso del tonno perché perché poi lo vendono ai giapponesi l'altro centro di raccolta è Malta ma ce ne sono anche altri centri come Valencia eccetera andiamo avanti per esempio nella costa catalana andiamo avanti possiamo andare avanti e questi sono i cambi che vi dicevo della dell'antaricata che la costa croata si cresca benissimo questo tipo di cose perché è protetta protetta dei venti e c'è quindi è proprio l'ideale per fare questo solo che per andare a mangiare queste bestie ma ci vuole tanto 5 pensate che diciamo il 10% del loro peso corporeo al giorno di cibo quindi ce ne vogliono di pesci e di altri alimenti e questi sono gli impianti croati dove ci sono i toni credo di aver finito ci sono diversi problemi ancora insolute ce ne sono diversi c'è sempre il discorso di capire le popolazioni per cose per ieri del 10% e qua sarebbe interessante il vostro aiuto noi ringraziamo moltissimo il professor Pombaci una presentazione bellissima adesso però in effetti possiamo anche discutere prima di discutere vi dico questo forse avete già ricevuto un questionario che abbiamo che il professor Pombaci e l'ISMAR hanno preparato e si affinano si fanno appello a tutti i deportisti che vanno per mare sia a vela che a pescatore perché nei prossimi 12 mesi o anche oltre perché questo questionario è senza un termine preciso riferiscano gli avvistamenti e le catture anche in forma anonima perché loro hanno molto bisogno di avere tanti occhi sparsi lungo l'atriatico per poter censire la popolazione avere un'idea di quella che è la popolazione quindi la taglia la tipologia e tutto quello che sta nel questionario questo il consorzio di cicloinatici l'ha diffuso pochi giorni fa qualcuno non sarà ancora arrivato ma comunque arriverà e facciamo appello alla buona volontà di tutti quanti per queste operazioni la seconda cosa che volevo dire è che abbiamo qui dei libri che il professor Pombaci e altri autori hanno preparato sulla biologia dell'atriatico risorse biologiche dell'atriatico non parla solo il tono di tutto purtroppo ne abbiamo un numero limitato vedremo quanti ne possiamo poi volevo dire appunto che il tono giallo la pinna gialla è quella che trovate nelle scatolette tra qualora risultasse chiaro perché a me nella precedente quando l'ho sentito questo discorso non l'avevo scritto bene la prima volta mentre il tono rosso che è quello più pregiato più buono non che quello giallo sia tono ma è tono vero però quel rosso più buono quello prende tutte queste strade dell'oriente non perché se lo vengono rubate ma perché lo pagano quindi è solo per questo però una cosa del rosso esiste perché c'è la pesca amatoriale c'è la pesca locale ci sono tanti canali attraverso i quali chi lo va a cercare con cura e con impegno lo può anche provare e adesso darei via qualche domanda se c'è qualche domanda facciamo ce ne sono via perché per esempio quando l'ho fatto a fast pace dai titani a quello che c'ha le eccellenze italiane e il tono rosso non c'è dove c'è i titani non esiste tutto quanto il castiglione di tono a piede gialle dopo c'è un tono mediterraneo che è la lunga giusto e quello viene spacciato come una cosa intermedia penso è un'altra specie perché c'è queste fine poi io approfitto di questa l'oppressione parlando di una cosa che adesso ci ha colpito molto il grande sparo bianco che gira avanti le nostre coste e abbiamo anche delle riprese su il suo aiuto allora il professor Piccini ha definito questa cosa normale però dicono che hanno sparo a 7 metri lo squalo bianco a memoria d'uomo scientifico eccetera il grande del mondo è stato pescato a Malta e era di 7 metri quindi se è vero che c'è un animaletto di 7 metri per me non è una cosa proprio così ma sono cambiate le cose le condizioni se volevo un commento suo appunto su questo vi dicevo poco fa parlavo delle specie che si ha segmentato e cosa succede succede che con riscaldamento è il cambiamento climatico più vicino che è un cambiamento climatico le cose cambiano i cambiamenti marini si discono dei cambiamenti soprattutto al livello delle temperature medie e altre cioè noi abbiamo dei cambiamenti che così con una sintesi abbiamo chiamato tropicalizzazione del Mediterraneo questo significa che dobbiamo aspettarci delle specie da Liene queste specie o altre di queste specie sono entrate e continuano ad entrare e quel giaioio che vi ho fatto vedere quello ionico quando diciamo funziona in senso ciclonico è una strada maestra per convogliare queste specie del Mediterraneo quando funziona nell'altro senso convoglia specie Aliene Atlantiche perché le temperature medie annue diciamo hanno avanzato di latitudine cioè mentre l'estate le altre estate arrivavano a un certo livello ora avanzano sempre di più cioè conquistano nuovi territori e quindi cambiano le cose quindi lo squalo bianco non mi sorprende non mi sorprende perché assieme a queste altre entrano anche i predatori alcune di queste specie si si stabilizzano altre no cioè altre diciamo non riescono a stabilizzarsi ma arrivano per esempio anche a chiesti di essere arrivati queste specie di Mediterraneo quindi non bisogna sorprenderci purtroppo le cose sono cambiate una domanda che so la pesca sportiva con la tecnica del pesce medis cioè prende poi rilascia secondo te ha un senso cioè il pesce dopo che è stato tirato per due ore sopravviene a questo rilascio oppure no? tutto dipende da dove si è convincato l'amo quando noi marcavamo le giovane donne in Sicilia cosa che si faceva nel periodo settembre ottobre novembre e c'erano i giovani nati quelli nati a giugno queste donne avevano un pezzo chilo tre quarti di filo ed erano quelle in cui noi conficcavamo questi spaghetti munginati ma non a tutti i toni noi prima li dovevamo tirare con delle esche poi bollavamo a mare quelle lenze e prendevamo se c'era un amo che aveva completamente scassato il labbro dell'animale non c'era niente da fare quello è non per marcarlo perché era già un tono ferito male non avrebbe più potuto mangiare a altri invece se il labbro era appena appena complicato e appalato tu lo sfidi e quello è un tono che se lo rilasci in mare cambia e cambia bene quindi tutto dipende da come che trauma subito però c'è un altro trauma mi raccontano perché io non faccio questa pesca che il tono grosso per essere tirato a bordo un'otto a due o tre ore sbaglio allora praticamente subisce dei danni qualcuno ma l'attentura di infarto cioè allora secondo voi che lo fate secondo il professore io non lo so se questi animali perché si dice che si erano stati trovati spiaggiati poi sulla spiaggia in Senigallia quindi mi pare un po' quindi hanno preso una da strada la mia la mia personale mi pare un po' ipotica questo fatto di prendere e rilasciare donne di 200 kg perché magari si è arrivati alla quota e quindi non si possono portare a casa cioè non bisogna essere categoric perché sono animali di grandissima vitalità certo dopo un anno dopo un'ora due ore due ore perché l'animale può essere distrutto dal punto di non sappiamo cosa gli succede si è arrivato